Questo appuntamento è offerto da Drago GT High Performance Club Grazie per la visione Grazie per la visione Il comune di Saluzzo e la Fondazione Bertoni Nel primo fine settimana di settembre Organizzano la maggior parte dei tradizionali eventi Per San Chiaffredo Con alcune novità per consentire il rigoroso rispetto Delle norme anti-contagio da coronavirus Saluzzo rimarrà l'unica grande fiera tradizionale In provincia tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno E' quasi tutto confermato, spiegano dal comune Abbiamo approfondito e studiato le norme anti-covid in vigore I funzionari e i tecnici del municipio si sono messi al lavoro Per alcuni aggiustamenti logistici E abbiamo capito che il nostro classico fine settimana di tarda estate Per celebrare San Chiaffredo non sarà stravolto Con le dovute precauzioni ed attenzioni Potremo tutti partecipare agli eventi in programma Indossando sempre le mascherine Ed evitando assembramenti il più possibile Per le celebrazioni del patrono cittadino Sono saltate serate musicali Alcuni appuntamenti I fuochi artificiali del martedì Ed altri appuntamenti sono stati ridimensionati Per consentire il rispetto delle disposizioni anti-contagio Il programma, in sintesi, sarà al via sabato 5 settembre Con l'inaugurazione della 73esima edizione Della mostra nazionale della meccanica agricola Del grande piazzale del Forboario in via Don Soleri Con conclusione lunedì 7 Domenica 6 e lunedì 7 settembre Nelle piazze del centro di Saluzzo Ci sarà la grande fiera di San Chiaffredo Con oltre 500 banchi Gli spazi a disposizione degli ambulanti Sono stati ampliati Comercianti e visitatori Dovranno sempre indossare le mascherine Infine, nelle piazze Cavour 20 settembre Da giovedì 3 a martedì 8 Sarà allestito Luna Park Con giostra ed attrazioni Questo appuntamento è stato offerto da Grago GT High Performance Club Grago GT High Performance Club Grago GT Undone Grazo 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 Grazie a tutti.